Più importante o meno importante? Cerchio Ifior attraverso Tullia e Gian, l'uno e i molti, Scifo. Bisogna non cadere nell'errore di concepire il corpo mentale come il caput mundi dell'individuo incarnato, come il corpo inferiore più importante tra quelli che l'individuo possiede, perché non è così. Certamente il corpo mentale ha una grande importanza, in quanto senza il corpo mentale tutti voi non riuscireste a ragionare, non con questo che sempre ragioniate. Tuttavia, se non vi fosse il corpo mentale, certamente nessuno di voi riuscirebbe mai a ragionare. Però bisogna tener conto del fatto che il corpo mentale basa i suoi ragionamenti, i suoi processi deduttivi e cognitivi sugli elementi che vengono a lui dall'esperienza vissuta dall'individuo all'interno del piano fisico. Quindi, se il corpo mentale non avesse le sensazioni del corpo fisico e le emozioni e i desideri del corpo astrale, certamente non avrebbe gli elementi sui quali fondare i propri ragionamenti. Voi direte, ma al corpo mentale arrivano però le spinte dal corpo della coscienza. Potrebbero bastare queste per indurre il corpo mentale a produrre dei ragionamenti, giusto? Certamente, in teoria potrebbe essere così, ma soltanto in teoria, perché anche il corpo della coscienza a sua volta riceve di ritorno dal corpo fisico, dal corpo astrale, dal corpo mentale, gli elementi tratti dalla vita all'interno del piano fisico per acquisire il sentire. E ciò che poi rimanda al corpo mentale arriva al corpo mentale attraverso questi elementi conosciuti, quindi sempre in dipendenza di questo flusso di informazioni che passa attraverso i corpi inferiori. Non vi è, in questo anello di vibrazioni che passano attraverso i corpi inferiori dell'uomo incarnato, nessuna parte che sia più importante o meno importante. Tutte sono importanti allo stesso modo e tutte sono dotate tra di loro di una certa sincronicità, ovvero lavorano contemporaneamente sui dati che entrano in circolo all'interno dell'individuo. Grazie. Grazie. Grazie.